È passato un mese dall'omicidio di Domenico Lorusso il 31enne Potentino ucciso a Monaco di Baviera la sera del 28 maggio scorso da un balordo con una coltellata a cuore, ma le serrate indagini della polizia tedesca non hanno ancora portato a risultati concreti. L'assassino del giovane ingegnere sembra completamente svanito nel nulla. La scorsa settimana il procuratore di Monaco di Baviera aveva annunciato la volontà di passare al setaccio le strutture psichiatriche tedesche. Il killer infatti potrebbe soffrire di problemi psichici. Gli inquirenti stanno raccogliendo dai pazienti che hanno prestato il consenso dei campioni di saliva da confrontare con il DNA dell'assassino recuperato sulla scena del delitto. Pochi secondi prima di uccidere Domenico infatti il balordo aveva sputato alla fidanzata della vittima senza alcun motivo. La caccia all'assassino prosegue anche negli ospedali. Le tracce di sangue non appartenenti all'ingegnere Potentino ritrovate sulla scena del delitto fanno pensare che l'uomo si sia ferito durante l'aggressione. Ai sanitari è stato chiesto se quella tragica sera o anche nei giorni immediatamente successivi abbiano medicato un giovane sui 35 anni alto 1,75 che presentava ferite da arma da taglio agli arti superiori. La polizia bavarese continua a seguire con grande attenzione l'intera vicenda anche perché il killer di Domenico potrebbe mietere altre vittime. Gli inquirenti sono infatti sicuri di avere a che fare con un soggetto instabile molto pericoloso capace di uccidere ancora. Dell'assassino però non si conosce nemmeno la nazionalità. In pratica è come cercare un ago in un pagliaio ma le autorità tedesche continuano a muoversi su più fronti per incastrare il responsabile di un delitto che ha scosso l'intera città non abituata ad episodi così violenti.